Si parte a quell'ora, succeda quello che succeda, the show must go home sempre. Il pubblico aspetta ma pretende, poi se ne va, qualcuno resterà altre ore se non giorni a disallestire e poi far ripartire il circo verso altre vidi. La crisi del lockdown ha fermato il nostro tempo, l'ha fatto prima di molti altri comparti produttivi. Teatri, cinema, musei, stade del concerto, club, sono stati fra i primi e fra i primi...